Buonasera, vi auguro un santo e felice Natale. Nell'ascendere la luce del presepio, noi vogliamo che la luce di Cristo sia in noi. Un Natale senza luce non è Natale. Che ci sia la luce nell'anima, nel cuore. Che ci sia il perdono agli altri. Che non ci siano innicizie, per questo sono tenebre. Che ci sia la luce di Gesù, tanto bella. Questo desidero a tutti voi, nel momento di ascendere la luce del presepio. Che io dono a voi i miei più calorosi auguri di pace e felicità. Se voi avete qualcosa scura nell'anima, chiedete perdono al Signore. È una bella opportunità questa di Natale per fare pulita l'anima. Non avete paura. Il prete è misericordioso. Perdona a tutti in nome di Dio, perché Dio perdona a tutti. Che la luce sia nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre città. E adesso, con questo augurio, ascendiamo la luce. Grazie.